E' la giornata del riciclaggio. Allora? Allora stai mettendo scarti di cucina nel bidone del riciclaggio. Oh, spero di non essere punita. Ma guarda un po', getto una carcassa di tacchino nel bidone del riciclaggio. Ma guarda un po', non me ne frega niente. Oh, oh, mi ha beccata. Posso approfittare? La mia donna mi ha fatto smettere. Vi fa fette... Diciotto... Diciannove... Grazie a Dio, erano della settimana scorsa.